Siamo qua del Remida Deep Challenge dei 1B, tutti e due ancora in gara, sia Fabio Berti qua con noi che Mischa Marcoulet. Certamente in gara quindi si ambisce la vittoria, ma quest'oggi è un motivo di situazione anche l'avventura nuova con il team di Alfa Poker, a cui chiediamo subito al capitano di questo nuovo team, Fabio Berti, cosa ne pensi e che cosa ci vuole raccontare in proposito? Beh intanto sono molto felice di questa nomina perché comunque essere capitano di un bel team che si sta costruendo in maniera positiva, di una room dinamica con bei progetti e idee alle spalle mi rendo orgoglioso e adesso anche essere compagno di Mischa ancora di più. Mischa Marcoulet è anche per lei una nuova esperienza che in realtà ormai abbiamo già visto da sempre sui tavoli del poker, cosa ci vuoi raccontare rispetto a questi tuoi nuovi progetti e questa nuova avventura con Alfa Poker? No, ne vedrete delle belle di sicuro, niente, teniamo il suo spans. Parliamo allora a proposito di progetti futuri, dove vi vedremo le mie prossime edizioni, abbiamo ovviamente tante 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 nuove cose da fare insieme, dove ti vedremo subito Fabio? Beh allora è un po' tutto, il calendario lo stiamo buttando giù in questi giorni, comunque sicuramente saremo presenti nei tornei del Remida e Shark Bay in quanto appunto una collaborazione con la Room, e poi per altre, sicuramente tante tappe del circuito italiano che stiamo valutando in questo periodo. Quindi non ci resta che aspettare, ringraziamo per la compagnia e in bocca al lupo ovviamente ai tavoli, sia per Mischa che per Fabio Berti, grazie mille. Grazie. Grazie.